A parte la parola amare, che vuole essere una contrapposizione alla logica dell'odio che sembra permeare adesso un po' la società, le cose negative, le cose che non vanno, no, un messaggio positivo e costruttivo, come non bisogna dire soltanto no, ma bisogna dare dei sì, bisogna mandare dei messaggi positivi. E perché della discesa in campo? Devo dire che è stata una richiesta che mi hanno fatto molti amici e a un certo punto io ho pensato due cose. Primo, che era un'occasione per plasmare una nuova creta, un PD come forse non si era visto ancora e siamo in un momento dove il PD sta attraversando una fase di difficoltà, qualche volta sembra quasi un po' un pugile suonato, ecco, un'occasione per essere ritornati all'angolo e per ripartire andando al centro del ring con determinazione e voglia di combattere. Si è parlato di PD in difficoltà da più parti, c'è la richiesta di unità del partito, ecco, come si riconquista? Ecco, le tre motivazioni che poi in realtà mi hanno fatto fare veramente il salto di qualità decidendo di confrontarmi con questa esperienza e con l'esperienza complessa sono innanzitutto una risposta da dare alla piazza del 30 di settembre, quella piazza del popolo dove a un certo punto si è cominciato a scandire proprio unità, unità e novità erano i due elementi caratterizzanti l'olivo e da lì dobbiamo ripartire, dalle nostre radici oliviste, quindi l'unità. Seconda cosa, un forte supporto all'azione di Sergio Chiamparino come candidato presidente della regione, lui ha operato molto bene, io penso che ci debba essere un elemento di continuità che non si limiti soltanto alla storia di quello che è stato fatto ma qual è la nuova sfida che noi vogliamo, intendiamo percorrere. E il terzo tema penso che sia una risposta a un'altra piazza, quella del 10 di novembre qui a Torino. In quella piazza c'era una richiesta in evasa di politica e di partecipazione, intercettare quella richiesta, farla nostra, farla diventare uno degli elementi del rilancio penso che sia una delle sfide affascinanti con cui mi voglio cimentare. Le priorità per il Piemonte quali sono? Beh sicuramente un riequilibrio fra i territori, l'importanza di fare sì che ci sia un equilibrio tra il Piemonte 1 e il Piemonte 2, noi abbiamo peculiarità diverse, abbiamo qua davanti al nord-est dove c'è la piccola media impresa che è ripartita ma dove si guarda forse più la Lombardia che il Piemonte, c'è un enclave abbastanza felice che è quella della provincia di Cuneo che è famosa per la produzione enogastronomica ma anche per la produzione dolciaria. C'è una situazione di Astia-Alessandra come potenziale retroporto di Savona perché noi dobbiamo ragionare di TAV ma dobbiamo ragionare anche dell'asse nord-sud cioè Genova-Rotterdam. C'è Torino, Torino che si continua a reggere grazie all'export che è un elemento fondamentale che ha avuto una capacità di riqualificarsi ma soltanto in un equilibrio tra il Piemonte 1 e il Piemonte 2 andando a creare punti e luoghi di eccellenza nel Piemonte 2 puntando sulle infrastrutture che sono quelle immateriali tipo la TAV ma sono anche quelle immateriali riqualificare le persone, permettere che coloro che sono espulsi dal mondo del lavoro a 50-60 anni attraverso un principio di formazione nell'arco della vita continuino a continuare a svolgere un loro luogo e questo lo fai creando poli di eccellenza soprattutto nelle altre province. In questo riequilibrio, nella sintesi tra il Piemonte e i Piemonti penso che ci sia la scommessa che vale la pena di correre e di giocare. Senatore, perché andare a votare per il coordinatore regionale del PD? Perché è un esercizio di democrazia, di democrazia vera, non è soltanto un click virtuale sul computer, dobbiamo ritornare a riguardarci in faccia, a capire chi sono le persone con cui vogliamo colloquiare e ogni volta che ci viene permesso di poter votare secondo me è un'opportunità da cogliere. So che è una data infelice, non l'ho decisa io, è la data del 16 di dicembre, domenica, dove i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 e andando sul sito www.pdpiemonte.it inserendo la propria sezione si saprà dove è il luogo elettorale, si saprà dove si può andare a votare. Quindi un esercizio di democrazia vera che coinvolge la gente, come l'ha fatto altre volte, perché il cittadino deve poter compare, deve dire la sua, anche per la dimensione regionale. Quindi un invito a tutti a rendere queste primarie, che poi sono una grande festa, perché poi naturalmente c'è il momento del confronto, ma poi ci sarà il momento dell'unità, con una partecipazione che sia adeguata a quelle che sono le nostre aspettative. È l'inizio di un percorso che ci porterà poi alla rielezione di Chiamparino, Presidente della Regione.